eh 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 c'è un minuto Oh a e poi forse andare con una fita e smarciarmi il pollo tutto con te probabilmente, ah! Ehm, bevis, perché vuoi smarciarmi il pollo se sei tornando con una fita? Ehm, perché non mi sapevo un pollo, ah! Ehm, perché non mi sapevo due allora? Oh, sì, non ci ho fissato, ma non mi sapevo un pollo, ma non mi sapevo un pollo, ah! Ehm, ma perché ti sapevo sempre un pizello ad smarciarmi, scusami? Ehm, per smarciarmi il fondo, ah! Quindi, se avessi due piselli che si stanno fando di me insieme, non ti passerebbe, vorrei che un altro pisello? Ehm, sei maniaco, bevis, eh! Sì, se vuoi il posto di un pollo, forse sei quei porre tu le mani, e stai mi schiego. Quattro superanti, vissi, e dopo mani! E dentrofigo! Sei, hai, otto cast! E, che intendo quattro piselli, e ha, otto mani! Ehm, no no! Os camis vogli mori in adesso guardi! Bue, due stas tramita! Bue, uno con il proprio stile! Ehm, eh, eh! Tho ti sapevo un pollo, spusami avessi armß. Ehm, 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 ehm! Grazie a tutti!